Sono qui con padre Serafino, il grandissimo padre Serafino e la scorsa domenica ho partecipato a una sua omelia, tema digiuno, che è un tema molto difficile, il che altro in questo periodo dovrebbe essere un tema abbastanza di moda, però se ne parla sempre meno. E siccome io ero tra quelli che questo anno aveva deciso di non fare il digiuno tradizionale perché fuori moda, ma sostituirlo con magari un atto di carità o magari non dire brutte parole, ovviamente ho partecipato all'omelia di padre Serafino che ha subito cambiato le mie idee, subito la steccata è arrivata. E siccome è arrivata a me, volevo condividerla con voi, perché credo che sia un momento importante questo della quaresima e ritengo che avere il dono di padre Serafino sia un qualcosa da non egoisticamente tenere solo per me, ma condividere anche con gli amici e con chi vorrà ascoltarlo. Padre Serafino, io chiedo se è possibile di magari riparlarci del digiuno, è un pubblico un pochino più eterogeneo perché va su internet, però insomma credo che quello che ha detto la volta scorsa vada bene un po' per tutti, quindi a lei la parola padre Serafino. Grazie Federica, ti ringrazio della stima, ma è capitato appunto di parlare del digiuno perché il Vangelo di domenica scorsa, prima di quaresima, c'era quel Vangelo famoso in cui Gesù dice quando digiuni non fare, non avere il volto triste, profumati il volto. Allora, così ho voluto tornare un attimo sull'argomento perché la tradizione monastica, cioè proprio i padri del deserto e tutti i monaci successivi, intendevano la parola digiuno semplicemente con non mangiare. Cosa vuol dire digiuno? Non mangiare, non mettere il cibo in bocca. E per quanto tempo? Per un giorno, per due giorni. Non mangiare, non bere, quindi la definizione è molto semplice, molto facile. Non toccare il cibo. L'efficacia di questo digiuno è straordinaria sul piano spirituale. Quando uno non mangia, certo che fa un po' fatica, si sente il disagio, ma c'è un immediato beneficio sul piano spirituale. C'è un misteriosissimo legame tra il corpo che è soggetto alla sofferenza del digiuno e invece allo spirito che ne gode i benefici. Questo verrebbe solo da dire provare per credere. Cosa è successo poi, specialmente in questi ultimi tempi? Che siccome quando parli di digiuno ti saltano tutti addosso, appena dici vorrei fare un po' di digiuno, tutti no, perché cadi per terra, no, perché svieni. Quindi provate a dire faccio digiuno, tutti in famiglia vi protesteranno. C'è anche questo attacco. Ovviamente non si capisce come mai uno è impossibilitato fare questo digiuno. Dicevo, quindi si sente dire, come hai anticipato un po' anche tu, sostituiti il digiuno dal digiuno televisivo, dal digiuno della parola in più, sostituiti il digiuno con atto di carità. Ma no, no, non è così. L'atto di carità è l'atto di carità, cioè da vivere non solo in quaresima, ma 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno. Il digiuno è una cosa specifica che va fatta con una certa regolarità, però in quaresima diamo questa penitenza al corpo per aumentare la vita dello spirito. Questo è il punto. C'è la proporzione tra il digiuno e la vita dello spirito. E dico subito che digiunare, cioè non mangiare, sembra faticoso, ma quando uno lo prova si accorge che è passato, dopo qualche ora di un po' di languore che si sente, in generale però è bene bere, è bene bere acqua durante il digiuno. Poi si passa, io conosco un uomo, non sono io, un uomo che ha fatto 12 giorni di digiuno senza toccare cibo però bevendo e andava tutti i giorni in ufficio. Quindi al dodicesimo giorno era ancora lì che andava in ufficio bello tranquillo e faceva le sue cose, usciva, guidava la macchina, faceva tutto quello che doveva fare. E quindi è possibile operare questo digiuno. L'efficacia è straordinaria. Se vuoi una spiegazione, abbiamo cercato di dare anche domenica scorsa, del perché di questa efficacia, possiamo dire questo, rimanendo sulla dottrina di San Giovanni della Croce dei cinque sensi. San Giovanni della Croce dice che noi ci relazioniamo al mondo con i cinque sensi, vedere, toccare, sentire, gustare, odorare, eccetera. Questi cinque sensi ci fanno conoscere il mondo. Ma noi non abbiamo solo i sensi del corpo con i quali noi conosciamo le cose del mondo. Abbiamo anche, dice Giovanni della Croce, cinque, i corrispettivi cinque sensi interni. Cioè abbiamo un vedere interno, occhi interiore, un udito interno, un odorato interno, un toccare interno, un gustare interno. Che sono i sensi spirituali. Qual è il problema? Che se l'uomo è totalmente preso soltanto dai sensi esterni, diventa un sensuale. Sensuale vuol dire, siccome mi danno gusto, mi danno gioia, mi danno piacere, li prolungo. Pensiamo per esempio al gustare, no? Io mangio una cosa buona e finché la mangio non è peccato. Una cosa buona, la fatta, esiste nella creazione, quindi mangio una cosa buona. Siccome mi piace, voglio reiterare e ripetere quel gusto buono che ho sentito, allora ne mangio una seconda porzione. Ma non per fame, per sentire in bocca quel bel profumetto, quel bel gusto di dolce, eccetera. E siccome mi piace molto, ne prendo una terza porzione. Allora, vedete, questo è l'uomo che mangia per il senso, cioè per avere il piacere del mangiare. Invece, quello che mangia in modo spirituale, cosa fa? Mangia una cosa buona, no? Quindi i primi sensi coinvolti sono quelli esterni del corpo, del gusto, eccetera. Però, siccome è una cosa buona, il senso interno del gusto, cioè quella cosa spirituale, come dire, io trasporto il mio godimento, il mio piacere esterno di aver mangiato, lo trasporto nell'interno e quando tocco il gusto interiore spirituale, lodo Dio. Ti ringrazio, signore, perché questa è una cosa molto buona, tu l'hai preparata oggi per me, lo diceva anche Santa Teresa d'Avila, della scuola carmelitana, no? Quindi io oggi ho gustato il rendimento di grazie, mi sono nutrito, ma oltre il nutrimento ho mangiato una cosa buona. Allora, il non mangiare significa spiritualizzare e purificare i sensi interni. Il non vedere, per esempio, anche il non vedere la tv va benissimo, spiritualizzo il senso della vista, visto che vedo sempre delle cose banali, stupide, a volte anche che mi portano alla sensualità, alle tentazioni, cosa faccio? Non le guardo. Ecco allora il monaco che vive nel monastero dove non ci sono visioni, visioni nel senso televisive, non si sentono sciocchecce, non si gustano cose esagerate. Allora l'uomo, parlo del monachesimo, l'uomo che rinuncia molto a queste cose le ha spiritualizzate, ma poi quando le usa le rende subito a Dio, cioè io vedo una cosa bella, ringrazio Dio, tocco una cosa bella, ringrazio Dio, gusto una cosa bella, ringrazio Dio. Bene, quello che il monaco fa per tutto l'anno, la santa chiesa di Dio ce lo dà per 40 giorni, allora vogliamo farlo provare a per 40 giorni, non vedere, non toccare, non gustare, non sentire? Voi mi dite, ma che penitenza, ma che brutta roba, se invece si riesce a farlo nella misura del possibile, veramente il quarantesimo giorno sarà una resurrezione. Quindi quarantesimo giorno mangio la cioccolata dell'uovo di Pasqua e vado in estesi immediatamente, perché ho tenuto il corpo spiritualizzato nel gusto per glorificare Dio. A proposito di questo voglio dirvi quello che diceva Don Divo Barsotti sulla pittura. Diceva sapete perché le donne più belle le dipingeva il Beato Angelico? Perché era un uomo spirituale e gli piaceva, lui poi era un toscano, quindi qui siamo nel cuore dell'arte, una volta fece un confronto tra le madonne del Beato Angelico e quelle di Leonardo da Vinci. E diceva la madonna di Leonardo da Vinci tecnicamente è perfetta, cioè è un quadro veramente si rimane meravigliati dalla sua arte. La madonna invece del Beato Angelico, perfetta anche quella, ma trasmette una linea spirituale. Invece diceva la madonna del Leonardo non mi crea devozione. Io vedo quel quadro e non sento devozione, perché Leonardo non era, adesso non voglio giudicare, appunto, condannare Leonardo, ma evidentemente era un uomo sensuale. Adesso io, ripeto, non conosco bene la sua biografia, ma nel dipingere dipingeva secondo quello che è lì, la sua esperienza interna. Il Beato Angelico, che dicono dipingesse in ginocchio ed era veramente un santo, quando dipinge, dipinge delle donne, a parte la madonna, ma anche la figura femminile, molto bella, allora io vedendola elevo, mi viene la devozione, elevo l'anima a Dio. Allora possiamo dire che i monaci sono quelli che dipingono le donne più belle, che fanno l'amaro più buono, fatti l'amaro che si va sempre in monastero, perché sono abituati, dovrebbero essere abituati a questo lavoro. Padre Serafino, mi piace moltissimo questa cosa dei cinque sensi esterni e cinque sensi interni, quindi sostanzialmente se noi rinunciamo ai sensi esterni, o comunque in qualche modo li sacrifichiamo anche temporaneamente, potenziamo quelli interni. Quindi se non ci cibiamo magari del nostro cibo preferito, riusciamo inconsciamente e misteriosamente a cibarci di più di Dio. E questo anche poi in pratica un pochino, e credo sia vero, credo che ognuno di noi l'abbia sperimentato anche nella pratica, che quando preghiamo e magari abbiamo appena finito un lauto pasto, è un po' più difficile pregare, magari ci viene un po' di sonnolenza, mentre se effettivamente siamo in un momento di privazione, magari anche di difficoltà, adesso la preghiera è un po' più intensa. Ecco, Padre Serafino conferma questo, nel senso la preghiera fatta nel bisogno, un po' nell'asterità, è una preghiera forse anche più sentita, perché è più nel dolore. È vero, sì, anche, cioè, come dicevo, il legame misterioso tra corpo e spirito passa anche attraverso questa esperienza. Come dicevi anche tu, dopo che uno ha mangiato in modo esagerato, si prova a dire il rosario alla terza avemaria, già è difficile non distrarsi regolarmente. Perché? Perché appunto c'è l'appesantimento del corpo e ha un riverbero immediato sullo spirito. E questa è un'esperienza che, come dire, si impara sul campo, cioè facendola. Se uno dice, provo, io oggi non mangio, non tocco cibo, e dicevo, ripeto, può anche bere, si accorge, un giorno dopo, due giorni dopo, che fa questa pratica, si accorge che prega meglio, ma non lo sa neanche lui, perché evidentemente è come se liberasse delle facoltà interiori che erano chiuse, represse, eccetera, da un eccesso di corpo, chiamiamolo così, ed erano lì represse. Allora, una volta liberate, c'è anche uno spirito più ilare, cioè c'è anche più facilità di buon umore. E' sempre strano questo, ma è la ricerca di Dio che dirige l'anima, l'anima ha bisogno di Dio, e il corpo in questo caso è strumento adeguato di Dio. San Francesco d'Assisi l'aveva capito questo, era un digiunatore straordinario. Pensate che all'isola di Trasimeno, nell'ultima quaresima, prima della morte, fu portato dal barcaiolo, c'è un'isoletta in mezzo al lago Trasimeno, si chiama isola, mi sembra, maggiore, fu portato lì dal barcaiolo con due pezzi di pane e disse al barcaiolo di venirlo a prendere 40 giorni dopo, per cui lui per 40 giorni stette solo con due pagnotte di pane. Quando andò a prendere il barcaiolo, gli aveva l'ordine di andarlo a prendere dopo 40 giorni. Quando andò al barcaiolo a prendere dopo 40 giorni, trovò che ne aveva mangiata una, ce n'era una ancora intera, ne aveva mangiata una, e disse sì, l'ho mangiata per non essere da più di nostro signore, che in 40 giorni non aveva mangiato niente. Allora lui mangiò quell'unica pagnotta, però per 40 giorni non mangiò niente. E uno spirito più leggero, più ilare, più allegro, più in perfetta letizia di Francesco nella Chiesa non c'è. Quindi questa è la dimostrazione più bella, concreta e pratica, che la gioia deriva anche da questo digiuno. Quindi non dico di digiunare 40 giorni senza mangiare niente, via. Un pochettino possiamo mangiare. Però un giorno almeno alla settimana, un venerdì, un mercoledì, proviamo a farlo. La quaresima il Signore ce la dà per questo motivo. Grazie infinite Padre Serafino, veramente farò girare questo video a tutti e grazie, se riusciremo a pregare meglio, anche grazie a questa catechesi mini. Grazie infinite Padre Serafino, buona quaresima. Buona Pasqua allora, va bene, ciao Federica e a tutti voi. Ciao. 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 Ciao.